Finalmente Agropoli torna ad avere delle spiagge degne di questo nome. L'esempio più significativo è quello del lungomare San Marco che, grazie alle opere di ripascimento in atto, ha allungato di diversi metri il tratto sabbioso. Merito del progetto iniziale varato dall'ex sindaco Paolo Serra, messo in atto dall'amministrazione comunale guidata da Franco Alfieri e con l'attuale sindaco Coppola che avrà il compito di terminarlo, ma soprattutto di sfruttare al meglio questo patrimonio che mancava da tempo in memore. Dopo circa un decennio di lavori, infatti, i risultati si vedono, ma ora sarà necessario dotare la spiaggia di servizi ad hoc per i bagnanti e sarà questa una delle priorità del nuovo assessore al porto e demanio, Eugenio Benevento, che succede a massimo alla porta. Importante sarà anche accorciare i tempi, considerato che i lavori sono iniziati a ridosso dell'estate e ciò ha reso gran parte del litorale non fruibile per quasi l'intero mese di giugno. In questo senso il nuovo assessore ha già cominciato a verificare la situazione del litorale agropolese, effettuando controlli e incontrando le autorità territoriali. L'attenzione di Benevento in questo momento è rivolta in particolare all'Idazzurro. Qui la mano dell'uomo non ha portato agli effetti sperati, ma ora si sta provvedendo a sistemare la situazione con interventi mirati. Completati i due varchi nella barriera preesistente, si lavora il ripascimento della sabbia. Su direttiva del neossessore le ruspe sono entrate in azione nei giorni scorsi e, nonostante le mareggiate, la sensazione è che il tratto sabbioso regga. Anche l'Idazzurro quindi potrebbe presto essere reso fruibile e bagnanti. Gli stabilimenti privati esistenti in zona intanto hanno potuto finalmente riappropriarsi della spiaggia in attesa della chiusura del cantiere.